Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6, campagne elettorali chiuse e canonico sabato di silenzio. Urne aperte domani dalle 7 alle 23 nei 50 comuni abruzzesi dove i cittadini sono chiamati a eleggere il sindaco e a rinnovare il consiglio comunale. Grande attesa per l'esito del voto all'Aquila. Sono 6 in tutto i comuni che possono andare al ballottaggio previsto per domenica 25 giugno. Sono 50 i comuni abruzzesi chiamati al voto per la giornata di domani, domenica 11 giugno, per l'elezione del nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Quasi 270.000 potenziali elettori coinvolti in regione. Si vota solo nella giornata di domani, dalle ore 7 alle 23. Non si voterà dunque anche di lunedì. L'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 25 giugno, sempre dalle 7 alle 23. Di questi 50 comuni, 21 sono della provincia dell'Aquila, 20 della provincia di Chieti, 5 di quella di Pescara, 4 di quella di Teramo. 6 i comuni sopra i 15.000 abitanti che dunque hanno il potenziale doppio turno. Il ballottaggio viene evitato se un candidato sindaco ottiene la metà più una delle preferenze al primo turno. I 6 comuni in questione sono L'Aquila, Avezzano, Ortona, San Salvo, Spoltore e Martinsicuro. La competizione più attesa è quella del capoluogo, dove sono ben 7 i candidati pronti a prendere il posto dell'uscente Massimo Cialente, Americo Di Benedetto del centrosinistra, Pierluigi Biondi del centrodestra, Fabrizio Righetti del Movimento 5 Stelle, Carla Cimoroni di L'Aquila Chiama, l'ex vice sindaco Nicola Trifoggi di Progetto Trifoggi, l'ex manager della ASL Aquilana Giancarlo Silveri di Riscatto Popolare e Claudia Pagliariccio di Casa Pound. Ad Avezzano si ricandida per il secondo mandato il sindaco uscente Giovanni Di Pangrazio, sostenuto da un'ampia coalizione di centrosinistra. A sfidarlo saranno Gabriele De Angelis, sostenuto da una serie di liste che fanno riferimento al centrodestra, Francesco Eligi del Movimento 5 Stelle, Nazareno Di Matteo di Libertà e Partecipazione, Stefano D'Andrea di Riconquistare Avezzano e Leonardo Cascere, sostenuto dalla lista omonima e da altre tre liste. Panorama frastagliato a Ortona, dove ci sono ben sette candidati. Sono nell'area di centrodestra Peppino Polidori e Angelo Di Nardo, con quest'ultimo appoggiato anche da Fratelli d'Italia e noi con Salvini. Di area di centrosinistra Rinaldo Veri, sostenuto dal PD, Gianluca Coletti di Ortona Popolare e Giorgio Marchegiano. E poi Tiziano Torzi di Svolta Ortona e Leo Castiglione, sostenuto da tre civiche. Più lineare la situazione a San Salvo, dove tenta la riconferma il sindaco uscente Tiziana Magnacca, del centrodestra, sostenuta da tre liste. A sfidarla Gennaro Luciano del PD, più altre due civiche. E poi ancora Pietro Angelo Angelucci e Osvaldo Menna, entrambi con il supporto di due liste civiche. Tre candidati a spoltore, dove il sindaco uscente Luciano Di Lorito, portato dal Partito Democratico e due civiche, è a caccia del mandato bis e se la deve vedere con due donne. Dopo l'esperienza di cinque anni fa, tenta di nuovo la scalata a Palazzo di Città Marina Febo, del centrodestra, sostenuta da cinque liste. E poi Filomena Passarelli, del Movimento 5 Stelle. Anche a Martinsicuro si ripresenta il sindaco uscente. Si tratta di Paolo Camaglioni, che al suo fianco ha due liste civiche. Lo sfidano Elisa Foglia, del PD, Massimo Vagnoni, appoggiato da cinque liste civiche dal centrodestra, e Marco Massetti, del Movimento 5 Stelle. Importante ricordare che per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e con la tessera elettorale personale. Nei comuni fino a 5.000 abitanti si può esprimere solo una preferenza. Per quelli sopra i 5.000 abitanti, gli elettori possono esprimere fino a due preferenze nella lista prescelta. Nel caso, questa doppia preferenza deve andare a candidati di sesso diverso, appena dell'annulamento della seconda preferenza. Abbiamo pagina. Calano di 17.000 unità gli occupati in Abruzzo. Lo dice l'Istat nelle sue comunicazioni di metà anno, fra le cause del decremento, il post-terremoto e il maltempo dello scorso gennaio. Paolo Renzetti. In Abruzzo abbiamo avuto un calo di circa 17.000 unità, che sono tante, pari al 3,5%, mentre in Italia c'è un aumento dell'1,5%. Ora il problema, a mio avviso, qual è? È che stiamo pagando le conseguenze di quanto è accaduto con il terremoto da un lato e con il maltempo dall'altro lato. Infatti l'accentramento delle occupazionali in senso negativo si realizza proprio nel settore dell'agricoltura. Circa 11.000 persone in meno. Quindi la disoccupazione aumenta e tocca un tetto del 13,7%. Numeri preoccupanti che però potrebbero cambiare e migliorare nei prossimi mesi, almeno questo l'auspicio. Io credo che nei prossimi trimestri ci sarà un miglioramento, non v'è dubbio. Un miglioramento che dovrebbe portare a una caduta della disoccupazione. Però i problemi strutturali che questa regione ha di fronte permangono. Nel senso che noi abbiamo una sofferenza diffusa delle piccole imprese che non riesce a riprendere il ritmo del passato. Le nostre piccole imprese ancora risentono della domanda interna. Infatti il terziario aumenta leggermente, ma è lontano dal 2008, cioè dal periodo precrisi. Il masterplan di cui tanto si parla è un'occasione che non va sprecata. Va subito messa in cantiere perché di solito gli investimenti pubblici fanno da traino agli investimenti privati. Quindi il masterplan è fondamentale. Ed è fondamentale che noi cominciamo a risolvere il problema della disoccupazione giovanile. È uno spreco immenso di risorse che noi esportiamo verso le altre regioni quando la disoccupazione giovanile, come è noto, è un problema centrale. Il lavoro è un problema centrale di questa regione, che non è solo un fatto economico. È un fatto di dignità, è un fatto di inclusione sociale, è un fatto cioè di senso della vita per molti giovani. Focus sulla ricostruzione, esame delle normative, delle procedure che ne regolano il processo. È il titolo del convegno promosso dal lance di Teramo e che si è svolto ieri pomeriggio nell'Ateneo Teramano. Un'iniziativa di cui c'era un gran bisogno e sono particolarmente grato a Lance Teramo per aver scelto l'università per organizzare questo incontro di lavoro. Ce n'era un gran bisogno e ce n'è un gran bisogno perché le sfide che attendono l'intera comunità teramana sono tante. Dobbiamo partire, dobbiamo partire con la ricostruzione privata, dobbiamo partire anche con quella pubblica, ma è più importante la ricostruzione privata perché oramai siamo arrivati a quasi 5.000 sfollati, gente che vuole tornare nelle proprie case, un patrimonio Ateneo Ter che non c'è più, bisogna darsi da fare, bisogna partire subito, dobbiamo fare gioco di squadra, non serve puntare il dito su quello, la colpa è di quello, non ha senso. È la prima di una serie di importanti iniziative che ci devono vedere insieme il mondo delle imprese, il mondo dei professionisti, la sezione dei condomini perché insieme dobbiamo superare queste difficoltà, ce ne sono e questo oggi è un momento per confrontarci, per superare queste difficoltà e a cui seguirà altri tavoli, altri incontri perché dobbiamo farli in tempi brevi, con mezzi doni e dare un prodotto di qualità a questo territorio. La gestione che va fatta in maniera seria e responsabile perché come ho detto precedentemente, la cosa più importante non è quella di far partire i lavori e finirli, la cosa più importante è quella di far rientrare le persone a casa per evitare che il centro Italia cambi la sua situazione geografica, sociale ed economica. Noi come regione siamo pronti anche come figura subcommissariale, voglio mettere in evidenza che dobbiamo superare ogni profilo burocratico, essere quasi imprenditoriali nella gestione delle procedure e organizzare molta velocità perché se si ricostruisce in breve tempo ha un valore, se si ricostruisce con tanti anni ha un altro valore. Siamo ad una dotazione normativa di straordinario significato per quanto riguarda la copertura finanziaria e per quanto riguarda la copertura di tutto ciò che è stato danneggiato. Questa è una normativa che possiamo dire determina la decraterizzazione del terremoto che si ricostruisce dovunque c'è il danno con particolare riguardo ai comuni del cratere sismico. L'ufficio opera con continuità e quindi il pubblico è accolto ogni giorno in cui l'ufficio è aperto. Circa le procedure, la procedura come oggi rappresentiamo è esclusivamente telematica, è esclusivamente online. Via la carta non ammetteremo nessuna domanda cartacea, né in termini di presentazione né in termini di comunicazione da parte dell'ufficio, all'utenso, al libro professionista. Ed ora la pagina della cronaca. Un ragazzo di 27 anni è rimasto ferito all'alba di oggi in modo grave in un incidente stradale accaduto a Pescara in via Tirino. Il giovane era a bordo di un'auto quando intorno alle ore 5 per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della pubblica illuminazione. Soccorso dai sanitari del 118, il 27enne è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della polizia stradale. Un altro incidente è accaduto sempre questa mattina intorno alle ore 7 quando un giovane, anche egli di 27 anni, si è ribaltato con il suo furgone nello svincolo a ridosso di Piazza Italia dell'asse attrezzato per cause in corso di accertamento. Il conducente del furgone, soccorso dai sanitari del 118, è stato poi trasferito in ospedale. Anche su questo incidente indagano gli agenti della polstrada. Sono tornati a manifestare di sera i residenti di via De Gasperi a Pescara contro le prostitute che lavorano nella zona a ridosso delle case. Si chiede al Comune l'installazione delle telecamere. Dopo che abbiamo mandato via con la nostra presenza le ragazze che lavoravano, diciamo così, sulla via De Gasperi quest'inverno, dopo un periodo di calma si sono rappresentate quattro ragazze rumene che cercano di esercitare il meretricio sulla via De Gasperi di notte e qualcuna cerca anche di giorno. E' una cosa inaccettabile. Noi non possiamo fare altro che scoraggiare i clienti, disturbare il loro lavoro a orari possibili e compatibili con chi lavora, con persone normali che fanno una vita normale. Quindi almeno a mezzanotte l'una presidiamo la strada, poi gioco forza, loro riprendono possesso. In ogni caso sono molto arrabbiate con noi. Come l'altra volta, la prima sera e la seconda, noi diciamo i protettori, per dire uomini del loro giro, ci hanno ronzato attorno, guardandoci male, fotografandoci eccetera. Poi piano piano sembrano solo meno presenti. Poi tra l'altro lo scorso anno avevate chiesto ed ottenuto anche un incontro con il sindaco di Pescara Marco Alessandrini. Passato un anno, cosa è cambiato? Niente, il sindaco Alessandrini ci ha promesso l'installazione di telecamere a controllo delle soste dei clienti e successivamente ha emesso un'ordinanza che punisse chi si fermava a contrattare con le prostitute. Il problema è che l'ordinanza scaduta in febbraio non è più stata rinnovata e le telecamere non sono mai state installate. Lei è uno dei residenti di Via De Gasperi, tra l'altro si sente anche dall'accento originario di Milano, vive a Pescara da diversi anni per motivi di famiglia. Si aspettava di dover far fronte anche a questo problema qui in città? La prostituzione è una piaga che c'è dappertutto, anche dove ci sono le case chiuse accettate, tipo Germania in Svizzera, la prostituzione di strada esiste. Il problema è che viene confinata nei luoghi del divertimento. Qui queste sono vie di borghesi, di residenza. Non possiamo pensare di avere la nostra vita controllata dalla malavita organizzata perché non dimentichiamo che queste ragazze sono gestite dalla malavita organizzata che ha altri scopi, oltre a quello del sfruttamento della prostituzione, ma del racket, dei furti negli appartamenti e nei garage. È una cosa che noi non possiamo accettare. Primi roghi dovuti al caldo nel Pescarese. Questa mattina alcune squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nello spegnimento di incendi di sterpaglie che hanno interessato dei terreni aperti nei territori comunali di Spoltore e di Cepagatti, in località Villanova. Il fuoco favorito dal vento non ha interessato zone nei pressi di abitazioni o fabbricati industriali. L'ascolto attivo dei ragazzi come metodo di prevenzione dai pericoli del web su tutto il Blue Whale, tema diventato tristemente attuale in questo periodo. Di questo si è parlato ieri in un convegno organizzato a Pianella con il coinvolgimento dell'ufficio scolastico regionale, il servizio della nostra redazione di Vestina News. Oggi qui a Pianella per parlare di un tema purtroppo molto di moda adesso, quello del Blue Whale. Sì, un tema che ci ha toccato direttamente a noi dirigenti della provincia di Pescara e della regione Abruzzo e per il quale a diverso titolo ci siamo impegnati proprio per cercare di contrastare questo fenomeno e soprattutto contrastare un uso inappropriato del web da parte dei ragazzi. Ecco, questa è la finalità. Per questo ho gradito molto questo incontro e soprattutto il riferimento ad un ascolto attivo dove l'ascolto attivo significa appunto saper leggere non solo ciò che ci dicono direttamente ai ragazzi, ma anche saper leggere i loro comportamenti, le variazioni d'umore in modo da proteggerli da quelli che sono i rischi incombenti del web. I ragazzi ormai vivono la loro solitudine e vivono in un mondo virtuale. L'ascolto attivo ci permette di capire le loro emozioni, di capire anche i loro cambiamenti e i loro disagi. Pertanto lavorare su quello sicuramente può portare ad arginare il problema e quantomeno a controllarlo. Quindi è una forma di prevenzione. Ho voluto come genitore e come rappresentante delle istituzioni, consigliere comunale di Pianella, occuparmi di questa vicenda. Ho sentito i genitori, ho sentito delle preoccupazioni, ho ascoltato e quindi mi sono dato da fare. Ho contattato la professoressa Catalano e insieme abbiamo organizzato questo convegno. Credo sia importante dare ai genitori gli strumenti necessari per poter stare vicino ai figli in un mondo che cambia velocemente, senza pregiudizio e senza il giudizio nei confronti dei figli, ma con l'ascolto attivo. Da ieri dormono in una tenda in Piazza Italia a Pescara perché rimasti senza la loro casa danneggiata e senza più ospitalità in un albergo. Disperata una famiglia di Alanno che si rivolge alle istituzioni. Da ieri sono accampati in una tenda in Piazza Italia, in pieno centro a Pescara, di fronte il comune e nei pressi della prefettura perché rimasti senza casa dopo che la loro abitazione ad Alanno è stata danneggiata da un canale. Una madre di famiglia con un figlio malato chiede una sistemazione dignitosa. Dal 10 maggio, essendo stata richiesta la mobilità intercomunale per questa legge, l'articolo 15 della legge regionale 96-96, per un'emergenza abitativa dovuta al dissesto idrogeologico, ci ritroviamo di punto in bianco il 5 che ci dice entro il 6 o ti prendi la casa di Alanno o te ne vai. Cioè fino al 5 sapevamo di prenderla qua, che stavano facendo le carte, che stavano vedendo questa possibilità e poi invece di punto in bianco o ti prendi quella di Alanno o stai fuori di casa. E noi stiamo fuori di casa perché la casa di Alanno non me la posso prendere, perlomeno io... Tra l'altro spieghiamo che lei ha un figlio che soffre di asma. Ha un figlio che soffre di asma allergica appunto alla muffa e alle polveri. Non può vivere in una casa che comunque ha una risalita di muffa acclarata fino al soffitto. Dei rosoni che ho anche documentato veramente gravi. E allora non possiamo assolutamente anche solo con una ripitturata stare in un ambiente simile perché me l'ha ordinato il medico. Quindi ci sono delle motivazioni che il sindaco di Alanno dice certamente condivisibili mandando questa nota a Pescara in cui richiede la mobilità intercomunale ne ha fatto anche un sollecito e noi siamo stati spostati all'hotel Le Nazioni per stare anche più vicini, eravamo praticamente all'arrivo di avere questa casa e di punto in bianco al momento che magari la dovevamo ottenere ci viene tolta la possibilità. Quindi voi adesso una notte qui... Prima ci ha dato alloggio la Caritas per tre giorni e adesso non abbiamo proprio alloggio. La prossima notte dove dormirei? Purtroppo qui, è stata bruttissima questa notte. Chiedo scusa perché siamo tutti quanti malati appunto per le umidità di 18 anni con le ossa massacrate tutti quanti. Quindi stare a terra al freddo non lo auguro a nessuno. A nessuno. Una delegazione di accademici dei georgofili, l'istituzione fiorentina fondata nel XVIII secolo per promuovere gli studi di agronomia, è arrivata in Abruzzo per toccare con mano e analizzare la realtà agricola regionale. Ieri tappa a Ripa Teatina la scoperta di una delle tante eccellenze enologiche regionali. Jacopo Forcella. Vino, cultura e agricoltura sostenibile sono questi i temi che hanno fatto da cornice al tour dell'Accademia dei georgofili che ha fatto tappa in Abruzzo alla tenuta di Sipio come primo step a Ripa Teatina. Un riconoscimento per il settore agricolo della nostra regione, strategico anche per l'eventuale sviluppo dell'economia abruzzese. Il tema anche di questo incontro può essere il connubio tra l'innovazione e la tradizione? Sì, sì esatto, è una grande chiave della modernità. L'Abruzzo può arrivare, sta arrivando, secondo me arriverà a questa scadenza con tutte le carte in regola. Naturalmente ragazzi bisogna lavorare, bisogna essere seri, bisogna smettere di fare le chiacchiere, gli annunci, le promesse, rimboccarsi le maniche e lavorare insieme. Cosa vuol dire per la vostra Accademia questo tour che parte qui dalla tenuta di Sipio che vivrà questa visita ma anche aspetti culturali ed enologici? In fondo anche oggi dopo un periodo di crisi si pensa a un'economia nuova in cui i territori assumono nuovamente un'importanza rilevante e in questa importanza dei territori l'agricoltura e le produzioni di grande qualità. Quindi qui siamo di fronte alla produzione del vino in una zona che è ricca di tradizioni, Enrica di Vitigni che hanno appunto una storia, quindi questo diventa un po' la nuova frontiera dell'economia. Possiamo riassumere questo tour come un connubio tra tradizione e innovazione. Abbiamo una storia dietro le nostre spalle, estremamente lunga. Tutto il Mediterraneo, la famosa dieta mediterranea, è un sedimentato di questa storia e quindi è estremamente importante raccogliere da questa sapienza che le nostre generazioni hanno accumulato in così tanto tempo e portarle a nuovo livello di interesse. Al via dal 12 giugno i Summer Camp dell'Associazione Positivamente per i bambini, un viaggio nel mondo incontaminato della natura. Natura al centro, questo è il progetto che prevede dei Summer Camp in provincia di Teramo. Vogliamo parlare di questo progetto? Dove verranno svolti questi camp e come è nata questa iniziativa? Il Summer Camp nasce da un sogno dell'Associazione Positivamente, che è un'associazione di promozione sociale di Atri e nasce dal sogno di aprire dei centri proprio in natura sulla filosofia dell'asilo nel bosco. Avremo due centri estivi, uno verrà fatto ad Atri in collaborazione con l'Oasi regionale naturale dei Calanchi di Atri e uno a Mosciano presso la struttura del Wild West al Lago Paradise, è una struttura di un maneggio. Quindi i bambini saranno immersi nella natura proprio perché noi pensiamo che la natura sia il motore primo per l'apprendimento per i bambini. I natura e i bambini sono felici e possono condividere questa loro felicità. E quando si condivide, si costruisce una collettività dove si collabora, dove si ha fiducia, proprio anche per un futuro di collaborazione e di fiducia. Ci saranno tante attività da svolgere all'interno di questi camp? Sì, noi abbiamo tantissimi laboratori, ne sono tanti e diversificati fra di loro. Avremo i laboratori di circo, i laboratori proprio di avvicinamento all'animale, sia al cavallo sia al cane come relazione, laboratori di manipolazione, yoga a bambini. Ma anche i laboratori rappresentano un'opportunità per i bambini per sperimentare nuove forme. Tipo il laboratorio di circo sperimenteranno la loro corporeità in nuove forme. Ci sarà il laboratorio di riconoscimento insetti ed erbe, quindi porteranno l'attenzione sulla natura, sul particolare del prato. Sono tutte opportunità di sperimentazione. La pagina dello sport che apriamo con una notizia che ha metà trasporto e cronaca. Guai per l'ex allenatore del Pescara Antonello Cucureddu, che è finito al centro di un'inchiesta in Sardegna, ad Alghero, nel quale sono coinvolte complessivamente cinque persone, fra cui il vice sindaco del comune in provincia di Sassari. Le accuse a vario titolo sono di induzione in debita, dare o promettere utilità, turbativa d'asta, falso ideologico e materiale commesso da pubblici ufficiali in atti pubblici. Fatti legati ai lavori per un campo di calcio ad Alghero. Misura restrittiva emessa anche per Cucureddu, ma non di arresti domiciliari come inizialmente diffuso, bensì di divieto di dimora nel comune di Alghero. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la gara sarebbe stata pilotata a favore dell'associazione polisportiva ADP 1969 di Cucureddu, su pressione del vice sindaco. Cucureddu è stato allenatore del Pescara dal marzo del 2009, quando prese il posto dell'esonerato Galderisi, portando i biancazzurri ad una sofferta salvezza, nella stagione connotata dal falimento della vecchia società. Ed è rimasto sulla panchina pescarese fino al gennaio 2010, quando fu sostituito da Eusebio Di Francesco. Ed ora il calcio a cinque, con una stoica prestazione in gara tre, il Pescara supera i calci di rigore, la Luparense riapre la serie Scudetto, fondamentali i recuperi di Leggero e Salas, seppur a mezzo servizio. Biancazzurri sotto nella serie, ora per 2-1, mercoledì prossimo gara 4 in Camponeutro. Sembrava un'impresa disperata, ma il Pescara la fa diventare realtà. C'è ancora vita per i biancazzurri che soffiano ai calci di rigore, gara tre ad una Luparense che già assaporava il sesto Scudetto. Prestazione indomabile per i ragazzi di Fulvio Colini, ancora squalificato, ma capace di trovare degli aggiustamenti tattici che hanno sparigliato la partita e sorpreso il quintetto di casa. Da subito il Pescara ha giocato con la carta di Cimanghigno, portiere di movimento, una tattica che ad un certo punto ha convinto anche la squadra di casa ad adottarla quando il possesso era della Luparense. In pratica per quasi tutta la gara, o l'una o l'altra squadra hanno avuto il portiere di movimento. Altro fattore, i recuperi di Leggero e Salas, che seppur non al massimo hanno stretto i denti, sono scesi in campo e hanno allungato le rotazioni. Importante peraltro la prova del paraguaiano. Gara sbloccata al dodicesimo col tocco sotto misura di Cimanghigno, vantaggio che dura un minuto, il pari è griffato da Coco Wellington con un morbido pallonetto. A un minuto dall'intervallo il Pescara ruba palla e Mati Rosa infila la porta incustodita per l'1-2 con cui si va al riposo. Nel secondo tempo i biancazzurri tentano due volte l'allungo, accelerazione al secondo del ciolito Salas, perfetto assist per l'1-3 di Cimanghigno. Un minuto dopo conclusione sporca di Mancuso, corretta con il tacco da Brandi, 2-3. Capozzo è protagonista, superbo tra i pali, trova anche la via della rete del 2-4 con un rinvio chirurgico. Ma il Pescara accusa un po' di stanchezza e i padroni di casa insistono con la loro pressione e col portiere di movimento. A cavallo di metà ripresa c'è la rimonta con la girata di Coco, quindi con il destro fulminante di Mancuso. Il Pescara però tiene botta, fa dei correttivi difensivi contro la superiorità numerica e spinge la gara fino ai calci di rigore. L'errore decisivo è di Mancuso che spara altissimo. Pescara non sbaglia mai ed il rigore che chiude la partita è del giovane Tenderini. La serie Scudetto dunque resta aperta mercoledì 14, gara 4 in campo neutro, causa squalifica del campo pescarese. Il pescare è più vivo che mai, 2 a 1 nella serie. Stamani abbiamo registrato la soddisfazione del patron Danilo Iannascoli che parla anche di questa ricerca del campo dove giocare gara 4. Una grandissima soddisfazione perché tutti sanno come siamo arrivati a questa partita. Quello che è successo in gara 1 che meritavamo nettamente la vittoria e poi è successo che un giocatore è impazzito, ha tirato un pugno a un nostro giocatore e siamo stati puniti noi per questo. Siamo andati lì contatissimi, abbiamo dovuto rischiare due dei nostri giocatori che erano ancora infortunati, però con un grande cuore, con tantissima determinazione e attaccamento alla città, alla maglia, alla nostra regione, i giocatori sono riusciti a riportare gara 4 qui in Abruzzo. La divisione sceglierà adesso dove farci giocare perché tra l'altro non ci vuole un palazzetto normale ma ci vuole un palazzetto che abbia almeno 1.500 persone di capienza e che sia a 100 km tecnicamente a 100 km da Pescara. L'unico palazzetto qui in Abruzzo che potrebbe ospitarci è Teramo, però non sono 100 km. Poi un altro palazzetto che chiaramente dove potremmo giocare sarebbe Montesilvano ma lì ci vorrebbe l'accordo della divisione e della Luparenze che accetterebbe di giocare a Montesilvano. Vediamo cosa deciderà. Dovrebbe decidere entro oggi la divisione però non siamo noi quelli che possono decidere. Abbiamo avuto tantissime squadre fuori regione che ci hanno chiesto di andare a giocare lì che ci vorrebbero ospitare e tra queste soprattutto il Bisceglie e l'Eboli che quest'anno è salito in Serie A che hanno subito dato disponibilità anche alla divisione ad ospitarci. è chiaro che dobbiamo cercare di restare il più vicino possibile in Abruzzo perché i nostri tifosi devono avere la possibilità di assistere a questa finale la finale non la facciamo soltanto per la squadra nostra anzi per la nostra città per la nostra regione perciò dobbiamo cercare in tutti i modi di restare nella nostra regione. Torniamo al calcio scendiamo in Lega Pro e facciamo il punto in casa Teramo Calcio L'allenatore sarà il prossimo passo del prossimo Teramo e salvo clamorose sorprese sarà Antonino Asta che è sempre stato il pensiero numero uno della dirigenza biancorossa il tecnico di Alcamo ha già dato la sua disponibilità ad accettare la sfida di rilanciare il Teramo in una stagione nella quale per il diavolo sarà fondamentale non fallire come è accaduto in questa e allora via anche ai colloqui che il direttore sportivo Giorgio Repetto avrà con molti elementi dell'attuale rosa e i cui contratti rappresentano di fatto una zavorra enorme per le casse del club di Campitelli molti giocatori qualunque sia la scelta riguardo all'allenatore non saranno più parte integrante del progetto tecnico ed ecco perché il direttore sportivo vuole vedere le carte e in accordo con la dirigenza avvagliare la strategia migliore per arrivare ad una soluzione che snellisca il parco atleti e renda il Teramo economicamente più sostenibile parallelamente si chiuderà con l'allenatore se le candidature concorrenti rimangono ancora in essere come quella ad esempio di Ottavio Palladini principale alternativa ad Antonino Asta l'ex tecnico della San Benedettese è da tempo in corsa ma con la pista Federico definitivamente sfumata le quotazioni dell'ex centrocampista del Pescara sono leggermente in flessione altri nomi per il momento sarebbero fuori gioco ma non sono e sarebbero allo stato attuale comunque delle sorprese da non escludere assolutamente almeno in questa fase ma il Teramo proverà con tutte le sue forze a chiudere per Asta il prima possibile per presentarlo già la settimana prossima col nuovo direttore sportivo e dare finalmente inizio al nuovo corso bianco-rosso finisce qui il nostro notiziario vi diamo appuntamento alla terza edizione del TG6 più tardi alle ore 23 buona serata a chiudere per la sua